Ciao a tutti, oggi faremo un bel video un po' divertente, un po' diverso dal solito. Allora, oggi faremo delle domande a Siri un po' intrigrandi, un po' strane. Vediamo cosa ci risponde. Allora, partiamo. Ciao Siri, come stai? Sto bene, grazie per l'interesse. Ok, ne ho uno. Che tempo fa ad Asti oggi? Se non schiaccio. Che tempo fa oggi ad Asti? Dovrebbe essere bello oggi, fino a 54 gradi e parzialmente soleggiato. Grazie. Grazie mille. Ogni tuo desiderio è un ordine. Grazie. Il miglior smartphone di sempre. Le migliori assistenti virtuali preferiscono l'iPhone. E il Samsung, ti piace? Non ho opinioni. Perché? Purtroppo non capisco. Ma se vuoi posso cercare. Perché? Su internet. No, grazie. Forse no. Mi fai un caffè? Mi fai un caffè? Purtroppo non capisco. Mi fai un caffè? Ma potrei cercarlo su internet. Riproviamo. Siri, mi fai un caffè? Non capisco cosa intendi per... Se mi fai un caffè? E se lo cercassi su internet? No, grazie. No, forse no. Sei molto bella oggi. Per favore. Mi vuoi sposare? Siamo solo amici, ok? Perché solo amici? Purtroppo non capisco. Ma se vuoi posso cercare. Perché sono amici. Su internet. No, grazie. No, forse no. Ti piace l'iPhone 5? Sarei meglio a non esprimermi, Davide. Allora è meglio il 4S. A chi vuoi inviare questo messaggio? Furbetta, niente messaggio devo inviare. Purtroppo non capisco cosa intendi per... Furbetta, niente messaggio devo inviare. A chi desideri inviare il messaggio? Nessuno, grazie. Mi dispiace. Non riesco a capire cosa intendi per... Nessuno, grazie. A chi vorresti inviare il messaggio? Nessuno. Mi dispiace, non riesco a capire cosa intendi per... Nessuno. A chi devo inviare il messaggio? Il tempo di domani a Torino. Qual è l'oggetto dell'email? Cancella email. Cancella email. Ok, ho modificato l'oggetto del messaggio. Vuoi inviare il messaggio? Ok, annulliamo. Come vuoi, non lo invio. Domani andiamo a cena. Questo l'ho capito. Ristorante cinese. Non mi risponde più. Siri. Ciao, Davide. Come posso aiutarti? Domani andiamo a mangiare al cinese. Scegli tu. Purtroppo non capisco. Scegli tu. Ma potrei cercarlo su internet. Va bene. Ciao Siri, grazie. Ciao. Freddissimo. Ci sentiamo più tardi. Buona giornata. D'accordo. Non vedo nessuna ragione per non celebrare anche il giovedì. Buon giovedì allora. Grazie, anche a te. Ma figurati, a me basta che tu sia felice. Sono molto felice. Mi fa piacere. Tu sei felice? Ho trovato 15 posti che corrispondono a 6. Sono abbastanza lontani da felice. Ciao Siri. Abre, Davide. Ok ragazzi, spero che vi siete fatti due risate. Due risate. Due risate. Se avete altre domande da chiedere a Siri, potete scrivermi, cliccare mi piace o mettete qualche commento su questo video. Ciao a tutti.